Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali che potrebbero essere considerati molto offensivi. Porca droia! Palle, ma perché fai farti sto coso? Non mi ricordo ancora come si fa un gioco! Ciao, sono Leny Rem. Che cazzo? Mi è venuto fatta farti un po' presto. E oggi giocherò a The Bunker 16. No, solo Bunker 16. Che palla! È un horror, però tanto oggi c'è l'umore di mera, quindi l'orro ci sta benissimo. Non lo so. Però, che cazzo sto dicendo? Non ero pronta, si può fare da capo. Allora, sono Leny Rem e oggi giocherò a Bunker 16 di nuovo. Un horror! Ci vediamo il video! Ciao! Ma pure quanto cazzo... E basta sto video proprio! Bene! Sto per iniziare questo gioco, ma non ho pure detto che devo finirlo. Io non lo finisco, lo dico subito, perché se arriva a Giotta che salta per l'entroviso... Allora, introduction. Your name is Peter Reed. E che cazzo l'ha deciso che mi devo chiamare così? Cioè, non capisco. You fled, fled a thunderstorm. Oh, cos'è la thunderstorm? Thundering non è la fulmine, è lo stormo di fulmini. Fled, you two fled in uno stormo di fulmini and took shelter in a abandoned bunker. As soon as you are inside the door closet behind you, you have your help. Vabbè, in inglese passivo, vedo io, vabbè, dentro se lo leggo vocatori. Vabbè, perché ho capito che il mio nome mi chiamava Peter Reed, sono in uno stormo di fulmini e sono abbandonato in un bunker. E Sun cos'era? No, che c'entra? Sun non era luna, vabbè, insomma, frega. E sono dentro un insidioso porta chiusa, sono dentro un insidioso porta chiusa, con me. Tu hai una testa lampo, che cazzo c'è scritto? Perché Ed Lampo, ho lampo e testa, no, lampo e lampo, Ed è testa, ho una testa lampo con me. Ah, ho capito, tu hai una tua testa lampo con te, a volte il cibo e a volte acqua. Ah no, sono su un po' di cibo e un po' d'acqua. Questo l'ho trovata a me. Il tuo goal, cioè, ok, calcio, lo puoi trovare, no, lo trovi su una strada uscita o da un bunker. Allora, no, aspetta, ti trovi, la strada ti trova uscita dal bunker. Perché si frega, la batteria, l'asta è ultimo, tipo l'asta è, non è ultimo per sempre. Ah, le batterie non dureranno per sempre. Che so' forte. Premi E per consigliare, no, quindi che dove fanno camminare buio? Premi VSA, WASD, no, però solo VSA, perché? Andy, WASD, tu buio, cioè, eh, io, eh, Luca, là. Premi F per la testa lampo. Non ho capito perché devo premere F per fare la testa lampo con superpotere. E' la bicicletta per le differenti modalità. Sai, come non era tutto che ciò, vabbè. Premi E per gli oggetti. Int. Make. Make era, prendi. Make, 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 make. Vabbè, ci sono due ore, solamente ho commentato questa cosa. Vabbè, apri la porta quando hai il primo aperto sopra la testa. No, che cazzo vuol dire? Apri la porta se hai la prima aperta. E apri la porta della tua vita, ma che cazzo... Ah, eccola, la mia testa lampo! Vabbè, che devo fare? Ah, qui c'è un maletto. Un'altra. Ah, è il diario di Jeff Walker, ma io non ero qui del rete. Ho visto uno stormo di shelter, è un po' come... In questo bunker. Ma è chiuso in un bunker? Ero insidioso dentro una porta chiusa. No, mi ero insidiato in una porta chiusa con me. Non posso aprirla. Adesso non posso aprire, quindi dove mi vedrà. La porta ha molti lucchetti automatici, quando si chiude. E questo chiave... Che io non è tipo alone, è una chiave da sola, nella porta. Ma... È veramente no chiave. No, non ho senso! Curse era... Sì, certo, quindi... Ma sì, certo, non c'è no chiave. Vabbè, ho capito come è che sono in prima porta. Affido, non vedrò il mostro in questa maniera. È una cosa fighissima. Camminerò sotto il campo così, sappiate. Che figata! Io ho visto un gioco horror ben fatto. Io ho visto un tipo prendere gli infatti. Two hours later. Allora... Spengiamo la luce per l'oggio di me. Allora, il dia di oggi è già fuoco. Diamine, ho supposto di attendere un conf call. Che cos'è? Un telefono conf call. Alle 10. Ah, attendere una conferenza. Telefono alle 10. Ho bisogno di cercare la strada per uscire da qui. Di trovare la strada per uscire da qui. Lex... Oh, che vuoi da dire? Viene da fuoco, vabbè. Eh, Lex Felice? Ah, Lex è felice. Ah, no, Lex è felice. Andiamo felicemente. Dove c'è una luce d'emergenza. Una... Window. Window non è il sistema del PC. Ah, per finestra, per finestra, quindi. Quindi, la luce da con una finestra che è molto larga. E l'og... Cioè, tipo, hai capito? No, è l'og... Ah, ho abbracciato, grazie. L'abbraccio, grazie. Oh, chi sarà invitato? Ah, ho capito, abbraccio il rog, grazie. Chi? Per sempre invitato al Flashlight. È tipo Flashmob, però Flashlight. Cioè, luce, luce, luce con la minocalorica, light, eh. Con la pediglia Flashlight. E le batterie, ha invitato pure le batterie. No, però non ha senso questa cosa. Però anche per abbracciare. Thank you, grazie. Per tutti, per tutti quelli che hanno invitato al Flashlight. Eh, non partiamo, non ha senso. E le batterie. Andiamo felicemente in questa piazza. Che non è grande. Che non è... Che non è... Che non è... Che non è... Grazie. Guarda... Voi menge lo scazzo. Perché la motica sta mantenendo? Non lo facciamo la pla... Perché se questa lampadina è accesa la corrente non funziona? E vabbè, ma si va per questa porta. Aspetta che cazzo esce da per dentro, dai, cioè, liberiamo Giorgio Wouter, così che è. Io lo sto prendendo, però non si ha. Avevo preso atti a un microinfarto, scusate, cioè. Era forse da questa per quello che ho detto, ma io ci posso andare all'inizio della ricispente. Aspetta che io accendo la lappatina per uscire. Un'altra. Non so se sto giocando la cosa. Il diario di George Walker. Ma perché questo George Walker è l'unica cosa che fa è fare un diario, strappare i pezzi e rinchiuderli da qualche parte, ma non ha senso. Ma questo qui in zona della luscina. Non c'è un'uscita di emergenza. E non ci sono finestre. Mamma mia, sto migliorando. Mi piacerebbe avere bim, 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 bim è una cosa a lungo termine. Mi piacerebbe fare la pura. Mi piacerebbe avere paura. Molto facilmente. Non la voglio. Non mi piacerebbe questo. Ho iniziato a cercare per le chiavi chiuse in alcune porte. Non ha senso. Allora, voglio iniziare a cercare per le chiavi chiuse in alcune porte. Ok, non ho sentato. Ah, mia, ma non è il novembre. Eh, mia era la colora di test notte. Nella mia testa delle notti del novembre 1. Ma, 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 mid. Ma, mid è come se ruolo. Vieni al centro. Vieni, sto qui, cammino al centro delle notti di novembre. Vabbè, se ci sei, ti vedrò. Ok, non ci sei. Grazie che non ci sei. Buon notte. E qui a terra. Con il verbo della professione. Vabbè. Se io avressi questo... Ok. No, 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 no. No, 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 no. Vabbè, ma che non c'è. Un'altra lettera del cazzo. Andiamo a per lui. Allora. Mia, mid night. Vabbè, sì, il diario di George Walker. E... Ho nuovamente cercato per ore o due. Ho venuto da due. Ma non ho trovato nessuna abilità della chiave yet. e la mia testa. Ah, branch, che cazzo era? Ha rischiato. È quello del baby. Sono quello del baby? Ah, che posso forse rimuovere gli scripts dalle porte. Of course, certo. Far... Non fa... Non ho fatto il branch con me. Ah, infatti, tipo... Non fare il deficiente con me, tipo... Che prende il branch? Della Nike? Ah, no, è... Ha... Capito? No, non ho capito un cazzo di quello che avevi detto. Scrivili in italiano. Ma io sto volando, tipo... Perché per terra io non ho pieno di niente. Che cazzo? Che figa sta cosa che ha aprile questa parte? Ah, ma ne posso aprire più di uno. E ditelo, ma io sto volando. Cioè, non devo scoprire. Ok. Ma perché volo? Ma che cazzo sono io? Ma scopri, non posso... All'altro sono io. Mi sto facendo volare la scuola. Ti faccio fare le bucche? Perché c'è una tazza? Non ha senso. Come che... Uh... Non ho capito questo. E un altro biglietto! Ah... Allora... Non ho visto, ma... Presumo... Che è una nuova... Al massimo... Mezzanotte. Mezzanotte. Ho perso il cellulare. Diamine. Sono morto. Ah, io lo dicevo. Io quando ho detto che se è gioco... Troveremo un biglietto dove dice che... Di un certo punto sia buffo e morto. Capito? E sarà l'ultimo biglietto che troveremo. Guarda... Che tutti gli erano è così. Spiccica. Hai so... Eh, c'è so. Vuoi fare un gioco con me? Ah, c'è una coppia di so. Ah no, a so è tipo sapere. Quindi so che è una coppia di letti. Ah, c'è una coppia di letti in abbastanza. E posso prendere un nap... Per continuare a cercare le chiavi. Per il primo wake up. Ah, si fa pure il wake up questo mentre cerca... Ah no, wake up. Saltare, salire. Salire. Quindi so che c'è una coppia di letti in abbastanza. Devo prendere un nap. Per continuare a cercare le chiavi. E poi saltare sopra. Ma che è super umano, sto tizio. Mi ha detto che era morto! Si è tirato, io sono. Morto tirato. C'erano tipo... Perché il mio anglo si fa così cagare? E non posso manco fare ancora sul traduttore. Perchè cazzo le tazze di caffè le lasciano in giro? Ma la mamma non gli ha insegnato a mettere a posto questi qua. Ma poi ci sono 25 scaffali e una tazza di caffè! Guarda, non è di me. Oh! Oh! La luce! La luce! Boh, 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 boh. C'è la luce! L'unica stanza dove c'è la luce è la cucina. Non me andrò mai più da qua. Vedi, come preparo l'altro testo in cui con la tazza di caffè faccio proprio il centro. Vai, fammi con la tazza di acqua, non posso. Non ha senso sta cosa. Perchè la luce funziona solo qua? Comunque l'accesione rilasce l'amore. Ma ora arriva il nostro maier non lo fa. Perché come so non c'è che la luce stanza dormendo. Pazzo! La luce è accesa in tutte le stanze! Ah, posso spegnere la lampadina? Eh, è molto inquietante però senza lampadina, grazie. No, riacciono la lampadina. Ragazzi, ho acceso la luce. Sono un geniaccio del male. Spera, non fare la merda perché ho acceso tutte le luci della stanza. Che cazzo! Oh, che cazzo c'è la mano? Ah no, è la mia mano nello schermo! Io sono deficiente. Se c'è la mano riflessa nello schermo, pensavo c'era il mostro che mi stavo prendendo. Cazzo, mi muoio. Tizio, svegliati. Tizio. Tizio, qualcuno mi vuole uccidere. Svegliati. Ma io muoio. Cazzo, si è aperta la porta e io muoio! Mi prego, non ti svegliare, tizio. Non ti svegliare, muori nel sonno. Mi faremo lì nel sonno, mi faremo lì nel sonno. Ti prego, non ti svegliare. PORGA MUTTA! Ma non c'è niente. Dai, 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 lo so che quel tizio sta lupendo ad aspettarmi. Si è fuori dalla porta. C'è un biglietto, leggiamo il biglietto. Aiuto, posso arrivare il biglietto? Ti piace, la porta si è aperta. Questo tizio è morto, ma la 5 euro si è già da scommette che io apro sto biglietto. Questo tizio è morto. E dice se stai leggendo questo? Guardo... Guarda la ruoca, che cazzo vuol dire? Era veramente dura camminare verso il naso. Cos'è lui? Per uscire dalla mia stanza. Ho sperato... Ho sperato, forse... Che una testa mi apriva le mani. Ma che cazzo? Ah, no, main, main, main era qualcos'altro. La porta è dentro nel bunker. E la luna... No, non è l'unico, non è il sun. Ma ho voluto uscire dalla mia stanza perché mi ha annoiato. Perché sento qualche cosa senza entrare nel bunker? E molte porte sono chiuse. E questo non è l'unico, 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 l'unico cerchio. Non è vero che non c'è nessuno in giro. Non è vero che non c'è nessuno in giro. È una gran cazzata questo momento. Non è vero, non è vero. C'è la pagine a merda in giro. Io sto andando a cercare. Addio. Svegliti! Non voglio vedere in faccia la morte. Scherziamo. Ma proprio così insomma un po' di un uomo. Ragazzi, qua dietro c'è la peggio merda che mi sto spettando. Cioè, va vero. Stavo dicendo, aspettiamo che quella coglione esce fuori dalla morte. Qui dovrei ritornare dove diventa la porta d'ingresso. Perché se questo non si sta... No, ve prego. Come potete posti cosa a me? E questa qua non ce la vedo. E io non sapevo. Ho realizzato. Oh, questo non l'ho letto. Perché questo è nuovo, ragazzi. Ho solo realizzato che alcune di queste carte... Che alcune di queste carte sarà. Non sono in questa piazza. Ero ieri. No, dove ero ieri? Guarda, mi piace a volte cercare... Trupp, trupp. Beh, stavo... Eh, a volte... Spettacolo. A volte in giove bunker dove ho dormito. Posso... Posso... Posso stirarmi in quello? E perché? Non c'è qui... Perché c'è un canto di bunker? Sono arrabbiata di come... No, perché? Gli indiani ce l'hanno con me. Sono armato nella mia vita. Con... Una pipa. E chiamo loro... Mentre faccio uno show... Di me che mi salvo. Sicuramente è così la traduzione. Fate per andare bene. Un po' di... Un po' di... Certo. Non sono affatto domande. Ed è di te. Non ho fatto altre domande. Per quattro. E voglio... io voglio una testa e cercare ancora il suo club il bunker di nuovo non ci sono molte piazze dove le persone possono diventare indiane che cazzo è? qui? stringersi? o io però devo presentare c'è qualcuno sto stronzo vabbè sì ok è possibile che ci siano del bunker solo dove salgo ma che perchè? perchè mi ho fatto l'indicazione di giochi poi scopri questo io sarei in mente sono lì un fantasma perchè sta porta chiusa io le lascio aperte già a me deve compiere ste cose ste cose da benzina brucio tutto proprio secondo me è lui che mi apre la porta e io so tipo il tizio di cui lo scrivo io troppo il tizio l'ho ah vediamo se c'è qualcosa che va a mettere davanti se c'è qualcosa che mi sono andata e da quando ho cercato qualcun altro ho deciso di aspettare fa l'entrata e ho detto io sono la stessa cosa fa finire che io sono la persona che le pensa io sono quella che mi sente e mi sta tipo scrivendo quindi ora io tornerò là e troverò sto tizio morto mi sono armato con una pipa e adesso sto facendo le opzioni per la porta concreta ho salvato l'energia della batteria ma io no e posso lasciare una infusione vabbè posso lasciare il rosolotto per rendere l'entrata e scappare magro ciao perché di papino è frattente grazie apro mi stai prendendo con il culo alla grande brutto stronzo mi hanno detto che l'amico di sto gioco ha un gatto piccolo perché così io continuo invece mi sto cagando sotto non puoi essere un gatto piccolo io stronzo mi ha detto che mi ha detto c'è un gatto stronzo ti pare che è tutta la spia ma qui ci rompono le schifette ancora un po' c'è lì i motri i motelli mai nessuno ci dividerà porca troia che cazzo è quella stanza c'è giù qualcuno fa che non te trovi l'ho aspettato per piacere tre ore all'entrata e nessuno è dove la vedo io parca troia al luna e tre sentire il sole come la pioggia dobbiamo mettere la premessa stavo aspettando iniziare a domandare a fare qualcosa cosa che potevo devo fare più dovevo guardare a volte e qui a volte la panza ma che perché non so l'entrata e adesso get up mi alzerò e cercherò la torcia no perdino solamente per chiedere una cosa le si spegne ma casualmente le batterie della torcia che sono state accese per tipo tutto il gioco c'è la stanza con la luce ho avuto la luce accesa via muovi si trova una stanza a parte la cucina con la luce la torcia si spegne bah il sole ma noi vediamo se qua non c'è la batteria non c'è niente che valeva qua ho solo empatia ha creato delle barriere non ci sono chiave e che questa era una marca di sic- vabbè niente ma ho aspettato che ritornassero sperato che non erano dei criminali cosa che gli indiani a volte sono ma io che cazzo la mia qui e adesso ho un picchetto ah i tuc tipo qua di là tipo i pespotti per fare la copotone non volevo tornare niente ah ho capito lo stesso scherzi scherzi oh tizio oh tizio ma io invece butto a capi gazzetta c'è un po' Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio, che cosa è così? No, ragazzi, se poi troppo il video, non muoio qua, muoio qua dentro, non mi devo fare un caso, sono qua. Nonirlandine, magari non mi devo fare un caso. Oh mio dio, ah, ho questo are mio dio, no mir questo è, sia65, è quello più ilito, ci fai un altro, anche qualcuno ci fai un altro. Sì, è qui tutto quel giorno, vivi. Ci fai fati dopo più, perivi tarci. io non c'ho sottotitata dai così perchè non ora risposta siamo senza torcia porca troia porca vacca se vede il top si prende spontaneo non ci posso bene ragazzi ringraziamo Dio che mi prefero peccato perchè mi sono scaricate le batterie non per altro quindi non vedo più niente non riesco più ad andare avanti per fortuna quindi se qualcuno sa se ci sono delle batterie in giro qualcosa che non ho visto perchè è assurdo continuare tutto un gioco così cioè con la luce ci saranno delle batterie sparse al momento che io non ho trovato perchè ero troppo impegnata a cagarmi sotto magari dite me lo fatemelo sapere così lo finisco e nel senso si sono felice di finirlo e così andremo avanti grazie per la visione grazie a tutti voglio ringraziare soprattutto gli iscritti che stanno aumentando grazie mille e ciao e ciao dalle DRAM è tutto sono mezzo a schizzare adesso ciao a tutti ciao ciao di dimmi le batterie ciao ciao amore io ti ho dato ma che ti ho fichendo ma che ti ho fichendo ma che ti ho dato